A volte mi chiedo chi sono io, solo parole perse nell'oblio sono un mandato di Dio, in questo mondo c'è carenza di valori, adesso è un altro concetto fare i signori, sperano tutti di fare milioni, ma con quali conclusioni, sesso troche panettoni, forse in questo ambiente il contenuto che spacca, oppure per essere superficiale ti viene da dire guarda sta giacca, non parlo di tutti o nemmeno di tanti, ma se non sei bravo allora perché canti, però hai fatto bene fra niente e rimpianti, per andare avanti come me vi spievate una lista di trapianti, il mio cuore è puro si vede fa finta, mi segui questo battito per una fine distinta, ma secondo me ci vorrebbe un altro po' di grinta per cambiare questa cazzo di tinta, vorrei far parlare il mio silenzio senza dire adesso ci penso, ma tutto questo non ha senso, non paragonarti a nessuno, lo dispenso, tutto questo è stucco denso, la mia cognizione è una precipitazione, ogni goccia è un'intestazione, questa acqua è la soluzione per una nuova benedizione. Qual è la conclusione? Qual è la conclusione? Non l'ho metabolizzata questa finitura, non l'ho ancora assemblata, quindi per adesso la visione è carbonizzata, respira questa polvere, sa un po' di strada, ora testo questa testata, una bomba ancora innescata, senza niccia e durata, C4 di questa figura ammaestrata, sta zitto con queste parole a cascata, guarda questa barra piglata, non te l'ha ancora dettata, fammi dare una grattata, lei che mi guarda schifata, scusa se è ancora agitata, non me la sono neanche tirata, senza una strofa sbagliata, quello che dico dilaga, quello che esprimo dio paga, sedugo il mio ego finché non annego, spero che ti vedo, spero che ti sento, solo questo pretendo, solo questo pretendo, faccio sì a consento, tutti questi li stendo, non mi faccio intimidire, sfodera fra il tuo stile. Grazie a tutti, grazie a tutti.